vai che me lo fa il saluto del bene da tutti a tutti i ragazzi con il bicicletta che parla e ci siamo in un nuovo video di bicicletta ragazzi siamo in un nuovo video di bicicletta con il nostro consulente tecnico Andrea che ci spiega che cosa stiamo facendo oggi qua al Sacrario di Viterbo lo consulente, lo slalom lo slalom? poi i scalini i scalini, i zombie poi la donara per fare l'ipelibrio e... allora ripiloghiamo il suplesso allora ripiloghiamo lo slalom in che consiste per chi non è esperto come voi di bicicletta? girare girare così quello dice 1000 centini? sì allora ragazzi questa è la scuola di biciclette di bagnaia che però è collegata a quella di è collegata col team bike di Civitavecchia allora ripiloghiamo prima lo slalom che sarebbe lo slalom? lo slalom? che devi fare così devi girare a destra e a sinistra con quei birilli? sì allora quindi lo slalom sarebbe fare una specie di zig zag con quei birilli e quello è lo slalom ma però vedo che voi già le sapete fare queste cose qui c'è qualcuno invece che non le sa fare quella della prima media della prima media la scuola di Viterbo la scuola di Viterbo perché loro stanno facendo le prove per vedere se gli può piacere o no questo sport ma tu che ci dici? questo sport vale la pena farlo? sì perché ti si diverte? sì tantissimo andiamo sui portali andiamo dentro andiamo le bozzanghe come Peppa Pig sì però ci divertiamo allora fammi capire quando piove voi andate lo stesso quando c'è tutto bagnato la montagna andate lo stesso e vi divertite lo stesso? sì ma pure di più di più da divertire sai quando vai in mezzo alle pozzanghe? sì guarda allora vediamo questi stanno alcuni ci hanno la tuta dopo ci compri l'aperitivo dopo facciamo l'aperitivo vai l'aperitivo gli facciamo un balletto? vai vai con il balletto dai le faccio il suo balletto questo è il balletto motivazionale ragazzi allora vediamo arriveranno man mano varie classi vediamo che qui stanno stanno ancora già hai fatto un furtino Alessandro? sì eccolo qua ecco perché mi hai chiesto di venire qua fammi vedere ah qui hai creato il furtino ah vedi seguo un centesimo Alessandro l'ho già detto raccogli i centesimi porta fortuna a chi li perde no a chi li trova buttalo via buttalo via porta più fortuna di tutti a chi li perde i centesimi bravo ecco il lavoro per il lato ma la mano va bene mi dice i vicini che salutate dai salutate ciao ciao ragazzi ciao ragazzi vi mettiamo in descrizione il link della team bike di Civitavecchia che bacetto il mio lito vi mettiamo in descrizione vi mettiamo in descrizione Manuel, perché vai a strada? Mi devi mettere i risalto e le capacità di equilibrio e di riflessi. questi ragazzi della scuola media di viterbo che classe siete bene mi dici adesso lo carichiamo su youtube quindi ha sentito che dici di iscrivervi al canale allora c'era buongiorno buongiorno della tecchi che stanno guardando iniziativa per capire se può essere bello no questo sport e c'era il maestro che spiegava che questa si chiama la tonnara siamo tutti i tonni che girano e devono tentare di non toccarsi tra di loro va bene mi dici che devono mettere a sto video pollice